Innovative FK è una holding industriale di partecipazioni che investe in start-up e prime innovative quotate in borsa a Parigi. L'abbiamo fondata nel 2017 con l'intento di investire nelle eccellenze italiane di tecnologia che mostrassero dei profili reddituali con un basso rischio imprenditoriale. Pensiamo di essere riusciti a realizzare questo percorso che ha prodotto un incremento del valore della partecipazione dei soci di circa l'80%. Ad oggi l'azienda capitalizza 20 milioni in borsa e ha avuto una crescita media del 25%. Innovative ha investito finora in aziende ad alta marginalità dal solido profilo reddituale. Abbiamo investito nei settori dell'artificial intelligence, del digital marketing, del cloud, della cyber security e continueremo ad investire nei settori ad alta crescita e scalabilità. Il nostro compito poi come manager è far sì che queste aziende in cui crediamo, in cui investiamo, crescano e creano valore nel medio e lungo periodo. Una volta eseguito l'investimento affianchiamo gli imprenditori nel percorso quotidiano di crescita della loro azienda, nelle scelte strategiche di lungo periodo come può essere l'acquisizione di una società all'estero piuttosto che l'apertura di una sede in Italia o di nuovo all'estero. Oppure li affianchiamo nel fine tuning e nel continuo miglioramento del piano industriale. Collaboriamo con l'imprenditore su tutte le tematiche legate ai numeri, al controllo di gestione e al controllo economico-finanziario dell'azienda. Il nostro investitore che ha messo i suoi soldi con un click in una campagna di pochi minuti si prende tutto questo percorso di esperienza. L'investimento in IRFK permette il riconoscimento del 30% di credito d'imposta che è appunto assegnato agli investitori di IRFK in virtù del fatto che investe prevalentemente in startup e più innovative. Il nuovo IRFK apre questa campagna di crowdfunding per accogliere nuovi soci investitori in questa avventura che però ha già dimostrato di aver fatto un grosso percorso. Con questo aumento di capitale intendiamo continuare ad investire in aziende belle, sostenibili, ad elevata crescita e marginalità.